Una piccola azione è tutta da smentire, a giacca e di sicuro sarà peggio chi che si cruzia dalla fine che fanno che che va giù per il closet. A buon conto se l'agga della veste e della qualità l'agga del grado ha i tre impianti che lavorate faccia, a Ciampedel, Moina e Pozza, o l'agga è uno dei più tecnologici del Trentino. Chi ha l'agga negra da Vic, Pozza, Pera, Mazzin, ma non c'è tutto che il piccolo impianto di Ciampedel non è buono di lavorare fuori. L'agga delle fogne, l'agga tra il collettor che passa sotto i lavaggi, ha una prima vasca, fa una 6 metri, o l'agga è una gradella, filtra i sas o gli sas. Nel primo pass del lungo percorso del chilometro che l'agga fa per sanitar fora, un trattamento di circa 26 ore. Da questa prima buona, gran pompe solleva l'agga delle fogne per l'agga del passaggio e per il prima trattamento della vasca di disoleatura quella che buona di aria fa venire a galla il gras e l'eleac che viene portata per l'agga del trattamento. E380 è il motore che fa slurare il depuratore della depozza, che controlli tra il suo computer. Una struttura che ha un gran bisogno di energia. E passa 1.300.000 kWh per l'anno. Per vi dare un'idea, che consuma 150 appartamenti. dalla disolatura le agga ruote le vasche di ossidazione da mille metri cubi l'una. Qui viene tenuta in movimento da una sorta di elica e viene pompata in aria da 5 motori da 100 cv. Piccoli ebole che vengono su dal fondo per dare ossigeno ai microrganismi che digeriscono i componenti organici delle aghe negre. Fuori a stagione è in vendorata di modo oide queste vasche. In questo periodo dell'anno si lavora circa 1.500 m3 di aghe negre al di. Anche invece le ore di stagione e l'impianto lavora al massimo con tutte catar le linee in funzione che passa 6.000 m3 tra te e una giornata. Dalla vasca di ossidazione l'aga negra ha scolmato le vasche di sedimentazione oltre che non è niente che la fa smever così che apre il caos e si sente giù il limo. Un gran cingolo che si fa piano piano spinge il caos in verso il rotolino oltre che viene recuperato il limo sul fondo e la ruota fino a due pompe. A compone questo limo e i microrganismi che digeriano l'inquinamento dell'aga chi è in parte che viene portata in mezzo in un'altra parte invece viene dorata che è una sorta di levamare e messa data alle aghe negre appena ruote i tetti l'impianto. Il limo che già viene portata in mezzo viene fatto pulire le altre vasche innanzi di essere manati all'ultima macchina ruota con il depuratore 250.000 euro al preso di questa sorta di centrifuga per siar su il limo. L'aga che resta tra le vasche di sedimentazione tra limo e scao e la canetta che dà i controlli la vena mano da fuori. Che anche invece le ore di stagione in alto ruote l'aga passa una lingua di filtro. di sicuro il depuratore di pozza non è imposto da parfum a buon conto non si poteva dire che sia odore. L'aria ha seguito essere nettata da un impianto tecnologico che tratta un trattamento chimico e fisico tra le mezze tutta la pozza e i gas veleno oramai i depuratori sono automatizzati e il processo e la qualità dell'aga seguita essere mesurata da 59 strumenti di precisione non hai lasciato il caso così che adesso siete in città o la carrua parte dei soldi della bolletta dell'aga per stravardare la qualità dell'aga della base e del nostro ambiente.